Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 ci sono tre chilometri di coda tra Rezzo e Valdarno in direzione Bologna a causa di un veicolo in fiamme. Sulla FIPILI per lavori, due chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna in direzione Firenze. Rallentamenti sulla carreggiata opposta in direzione Mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Con il rientro a scuola anche delle superiori è in atto una nuova fase del trasporto pubblico. Aggiornamenti e collegamenti in diretta sui canali social di Muoversi in Toscana. Si ricorda che il numero verde regionale per gli utenti del TPL è 800570530. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!